Il ciclo di vita delle informazioni tecniche, però cerchiamo subito di capire di cosa si occupa. Lorenzo, faccio di nuovo intervenire te, che cosa vuol dire esattamente? Il ciclo di vita è un po' quello... Il ciclo di vita è un qualcosa che ha un inizio e una fine, per cui... e l'inizio è nel trovare le informazioni giuste da mettere sui manuali. Facciamo un esempio più concreto. Sicuramente chi ci sta ascoltando ha un lettore DVD, ha un microonde, ha un'automobile, troverà all'interno dell'automobile, all'interno della scatola del lettore DVD, un manuale. Questo manuale aiuterà l'utente a districarsi nelle impostazioni più complesse normalmente, perché in manuale normalmente non si aprono molto, si aprono solo quando ci sono dei problemi. Per cui il ciclo di vita nasce con la raccolta dei dati all'interno dell'azienda che costituiranno le informazioni presenti sul manuale. Questo significa partire da documenti molto complessi di progettazione, e renderli, dal punto di vista della leggibilità e dell'usabilità, documenti per tutti. Per cui quando noi perdiamo la pazienza perché non troviamo le informazioni giuste all'interno del manuale o perché magari noi abbiamo bisogno di sapere di che colore è una spia o che cosa significa una spia accesa sul cruscotto e perdiamo la pazienza perché non riusciamo a trovare questa informazione immediatamente, e proprio perché probabilmente quel manuale non è stato pensato con la mentalità o la testa dell'utente finale. Quindi il nostro compito è raccogliere le informazioni, metterle insieme. Questa qui è la prima fase del ciclo di vita, che chiamiamo noi gestione, gestione dei dati. Poi Paolo Sarzanini ci aiuterà sicuramente a capire come facciamo nel dettaglio questa gestione dei dati. Dopodiché la seconda fase è una fase di scrittura. Scriviamo il manuale, lo scriviamo, cerchiamo di mettere tutti i contenuti, ci sono delle regole ben precise, anche diciamo normate da leggi della comunità europea, di come deve essere scritto un manuale tecnico. Dopodiché questo manuale ovviamente deve essere portato vicino al prodotto in Asia, in Europa, negli Stati Uniti, quindi a questo manuale vanno abbinate delle traduzioni e Federica Rossi ci aiuterà a capire quello che è il mondo delle traduzioni di Star. Ed è proprio, anche se sono diciamo contigui, sono mondi completamente diversi, con criteri, crismi completamente diversi. Dopodiché c'è anche un'altra fase del ciclo di vita che è l'interpretariato, che esula un po' dalla parte della documentazione tecnica, quindi magari ci ritorneremo sul più avanti, ma si passa subito alla pubblicazione. Ecco, questo è un passaggio fondamentale. Quindi la pubblicazione significa prendere queste informazioni che noi abbiamo scritto e rendere fluibili all'utente, e fruibili ovviamente significa anche navigabili e significa anche utilizzare quelle che sono le moderne tecnologie dagli smartphone, dall'iPhone stesso, per esempio iPad, all'Web o altre diciamo tecnologie come le chiavi USB che sono ormai diventate uno strumento standard per la gestione della documentazione tecnica. E questa è l'importante fase della pubblicazione a cui seguono dei servizi a completamento. La stampa, la carta, sia per legge che per necessità non viene ancora abbandonata, per cui i manuali di carta vivono e sussistono, per cui noi facciamo anche il servizio di stampa, e lo facciamo in maniera, direi, anche abbastanza importante. E poi quello di logistica, che è il servizio finale, cioè ci occupiamo di fare proprio il kit, il confezionamento del manuale, la distribuzione dello stesso verso, non so, la rete dei dealer oppure l'utente finale. Per cui questo è un po' il ciclo di vita dell'informazione. Da dove nasce e da dove muore, per noi quando muore significa che è in mano a chi ha la necessità di utilizzarla. Ecco, chiedo scusa, ma il servizio che effettuate è anche di stampa, ne so che stampate fisicamente, oppure avete un service organizzativo, cioè che vi preoccupate di fare la parte editoriale della stampa, quindi puoi mandarla in una tipografia ad hoc? Noi abbiamo sia il service organizzativo, sia una partecipazione con un centro stampa che ci segue in tutte le nostre esigenze di stampa, con la particolarità che è molto, diciamo, molto innovativa, che abbiniamo in funzione del numero di coppie sia la stampa digitale, quindi per piccoli numeri di coppie, sia la stampa offset, quindi grandi numeri di coppie. Ma un elemento importante, abbiamo evidenziato negli ultimi tempi, che anche grandi aziende che vendono milioni dei loro prodotti si devono dotare di stampa digitale, nonostante che, non so, un frigorifero possa essere fatto in 2 milioni di pezzi, abbiamo tantissime lingue, quindi diminuisce la quantità degli utenti e abbiamo tantissime versioni, per cui nonostante quel prodotto sia unico, i manuali potrebbero essere più di 100 per lo stesso prodotto, in funzione del numero di lingue, in funzione delle versioni del prodotto stesso. Per cui è importante combinare una tecnologia di stampa massiva come l'offset e una tipologia di stampa puntuale come quella digitale. Chiedo scusa, Mimmo, scusa, sono curiosissimo, ma i vostri clienti sono prevalentemente in Piemonte o anche in tutta Italia? I nostri clienti fino a 5 anni fa erano solo fuori dal Piemonte. Ah, ecco. Poi ci siamo resi conto che anche il Piemonte, sicuramente il Piemonte dà delle buone opportunità, quindi abbiamo fatto proprio un'attività commerciale specifica per riuscire ad avere aziende vicino a noi. E anche per dare un senso al fatto che abbiamo un ufficio massimo. Esatto, ma nel frattempo questo fatto di avere tanti clienti fuori dal Piemonte ci ha obbligato ad aprire anche altre sedi, una a Pistoia per il settore ferroviario e una a Maranello per quella che è la Motor Valley, per cui il settore automotive. Sì, immagino che a Maranello sia perché appunto lavorate con i frigoriferi. Esatto. Ventre lavorate con Ferrari. Sì, sì, noi seguiamo tutto il ciclo di vita, delle informazioni tecniche anche per Ferrari. Però, diciamo, ultimamente in Piemonte stiamo cercando di realizzare il nostro sogno, cioè diventare fornitori di Fiat. E questo speriamo che qualcuno in ascolto ci possa aiutare nel realizzare questo sogno. E dall'altra parte però stiamo avendo anche buoni risultati su aziende anche non nel settore automotive, nel settore delle macchine agricole, in diversi settori, in aziende piemontesi. Ecco, una delle fasi che appunto hai citato è la creazione di contenuti e gestione. Allora, Paolo, faccio intervenire te, ci vuoi raccontare di cosa si tratta questa fase, di cosa si occupa, diciamo? Allora, la creazione dei contenuti è appunto il punto di partenza per tutto il processo che gestiamo noi del ciclo di vita delle informazioni. Siccome noi lavoriamo nel settore automotive, la creazione dei contenuti si basa ovviamente con la discussione e le riunioni fatte con i team di progettazione, con tutte le realtà produttive di quelle che sono le aziende che nel nostro caso producono automobili. Questa fase qui è molto importante perché da una buona raccolta delle informazioni si arriva alla classificazione della stessa, all'organizzazione dei dati e alla successiva capacità di renderli fruibili e molto molto facili da consultare. Mi spiego meglio, noi lavoriamo nel settore automotive e diamo ai meccanici delle officine le istruzioni per poter riparare in maniera semplice e rapida gli autoveicoli. Quindi noi possiamo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, il nostro lavoro è di successo, nel momento in cui permettiamo a tutte le persone come noi che hanno un'auto di andare in officina e essere confidenti che la stessa verrà riparata e restituita a noi nel minor tempo possibile. Sarà capitato tutto il giorno prima delle ferie di avere un problema alla propria auto e quindi il desiderio che si ha in questi momenti di andare dal meccanico in un attimo portare in officina e vederla riparata, anche perché ci immaginiamo che il meccanico in un secondo possa intervenire sull'auto, capire qual è il problema, riordinare la parte di ricambio, capire qual è la parte di ricambio da cambiare e nella migliore dell'ipotesi, essendo già nel magazzino dell'officina, permetterci dopo mezz'ora di abbandonare l'officina e di andarcene tranquillamente a farci le nostre ferie. Il nostro lavoro è proprio quello, dobbiamo raccogliere i contenuti, classificarli, inserirli nei nostri sistemi di gestione per rendere fruibili e per dare il mezzo al meccanico di poterci riparare l'auto in due minuti. Questo è il nostro obiettivo. Ecco, un'altra fase molto importante ovviamente è la traduzione. Qui faccio intervenire. Federica, come si svolge questa parte? La traduzione è un aspetto molto importante per la nostra azienda. Traduciamo da tutte le lingue verso tutte le lingue. Il primo concetto fondamentale è che un traduttore traduce sempre ed esclusivamente verso la propria lingua madre, per cui noi ci avvaliamo della collaborazione di un buon e vasto numero di freelance, nonché anche della presenza di nostri uffici in ben 41 paesi con uno staff permanente di dipendenti di più di 900 persone. Ciò ci consente logicamente di coprire appunto molte combinazioni linguistiche, più di 60 e a livello di traduzione vorrei dire che dobbiamo staccarci da quella che è l'idea del traduttore romantico di una volta chiuso nel suo sgabuzzino con una pila di dizionari alle spalle. Il nostro traduttore è sicuramente un traduttore competente a livello grammaticale, stilistico, di tutto quello che può essere il senso e il centro della lingua verso la quale traduce ed è anche spesso e volentieri un traduttore competente di motori. Abbiamo parlato del settore automotive ma possiamo parlare e il nostro settore è anche quello della nautica. Aerospaziale, militare e quant'altro, macchine utensili, ci muoviamo veramente in tutto quello che è il settore tecnico in senso più ampio e al giorno d'oggi, mi permetto di dire, quando il cliente ci contatta, spesso e volentieri intende per traduzione tecnica veramente una gamma vastissima di argomenti, dal marketing ai corsi di comunicazioni, al software, alla traduzione dei siti web. La traduzione quindi, come illustravo precedentemente, ciò che lega i contenuti all'utente finale. Ci avvaliamo per la traduzione di anche importanti strumenti tecnici e software che noi stessi abbiamo sviluppato nel corso di questi anni. Il più importante è Transit, che è un cat tools, cioè un software per la traduzione assistita. Tengo a precisare non traduzione automatica. Traduzione assistita significa questo. Grazie a Transit noi riusciamo a recuperare al 100% parti di testo, pensiamo sempre al consueto manuale, precedentemente tradotti. Vale a dire, Transit verifica l'unità linguistica e semantica di una frase di un manuale precedente, la compara col manuale ora in traduzione. se verifica un tasso di similarità pari al 100%, la pretraduce automaticamente. Quindi traduce blocchi di frasi che avevate già tradotto in passato. Sì, se sono identici al 100% anche dal punto di vista di un punto, una virgola, di tutto. Questo logicamente si traduce per i nostri clienti in un risparmio, poiché una traduzione, il pretradotto, quello che noi chiamiamo pretradotto, ha un costo pari al 10-15% di una parola new, di una frase new. Quindi non è solo, a mio avviso, un risultato di successo a livello economico, bensì, soprattutto per quanto riguarda la manualistica tecnica, è importante che essa garantisca consistenza, vale a dire uniformità, terminologia comune, comprovata, validata dal cliente e non difforme e discordante all'interno di un manuale stesso. Noi vogliamo che Vite sia tradotto in questo modo. Transit si integra con un altro strumento importantissimo che è Termstar. Termstar non è altro che un dizionario creato specificamente ad hoc per il cliente. Quindi, ritornando al discorso precedente, non abbiamo il nostro traduttore isolato con i suoi dizionari che dopo cinque anni magari non sono più attuali, bensì, grazie a Termstar che si presenta proprio nell'ambiente di lavoro di transit, per cui abbiamo una finestra che il traduttore freelance vede accanto alle coppie di lingue che traduce, noi possiamo creare un dizionario ad hoc per il cliente, farglielo validare e addirittura può essere pubblicato su web. Vale a dire Termstar diventa Webterm e il cliente può rendere fruibile la propria terminologia al direttore marketing della propria sede all'estero piuttosto che ad altre persone che lavorano a livello di terminologia. Cioè, faccio l'esempio, il termo fluido conduttori per esempio può essere tradotto in un modo per un'azienda e in un altro modo per un'altra, a seconda che quell'azienda abbia deciso oppure no di utilizzare quel termine. Assolutamente e grazie alla pretraduzione di transit che in talunni casi è contestuale, vale a dire transit è in grado anche di verificare il contesto entro cui ci stiamo muovendo, è possibile per il cliente stesso comprendere se in questo caso coltello va tradotto in un modo slitter piuttosto che anvil. Faccio un semplice.